È uno spettacolo che ha debuttato l'anno scorso ed è stato inserito nella stagione del Teatro Fenaroli di Lanciano e poi su invito appunto del Bois de Cazier sarà rappresentato a Marsinel sabato 1 giugno alle 20.30 in occasione della Festa della Repubblica Italiana. L'Abruzzo è stata una delle regioni più colpite da questa tragedia, soprattutto Manopello, Letto Manopello, i paesi della provincia di Pescara. Il testo, il poemetto di Eraldo Miscia racconta proprio la vita che si faceva in questi paesi dell'Abruzzo nel dopoguerra ed è uno spettacolo sul lavoro, sulla mancanza del lavoro e soprattutto sull'emigrazione italiana. Uno spettacolo che ci aiuta anche a comprendere meglio gli anni che stiamo vivendo oggi perché racconta la nostra storia in quel decennio tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni Cinquanta.